Baggio è il calciatore che non ti aspetti, quello che alla sregolatezza preferisce la sofferenza dell'allenamento, quello che sceglie i valori, che danza come Raffaello sulla tela senza offendere l'avversario, quello che subisce infortuni e riparte ogni volta come se niente fosse accaduto, cocciuto, quello che gli allenatori considerano un pericoloso eversore dei loro schemi e lui zitto in panchina, il più delle volte, quello che non reclama, che non si lamenta ma che sotto è pedalare, quello che si ritira e ha già un programma di allenamento personalizzato, quello che ha cambiato mille squadre ed è sempre una bandiera, quello che fa tornare bambini, tutti, quello che è attaccato alle sue radici, quello che difende la sua privacy, quello che si è messo in fila quasi come un debuttante ogni volta che l'allenatore di turno gli ha preferito un altro al posto suo, specie in nazionale, questa è la storia di amore e resurrezione, di lotta, passione, rivincita, questa è la storia di un ragazzino prodigio che a 17 anni tutti davano per spacciato, questa è una storia di scontri, tafferugli, incendi in nome di un calciatore, questa è la storia di un rigore che ti segna per sempre e di una vita passata tra la gente, questa è la storia di un'estate italiana, di piazze e di feste, di bandiere e di motorini, di monaci e di cacciatori, questa è la storia dell'uomo che non ha nemici ma solo apprezzatori, questa è la storia di una generazione, questa è la storia di un campione, questa è la storia di Roberto Baggio.